Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Campora San Giovanni, frazione del comune di Amantea. È accaduto la notte scorsa intorno alla mezzanotte durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Secondo quanto emerso, un 27enne nato a Como e residente ad Amantea, è stato travolto e ucciso da un Intercity 794, proveniente a velocità sostenuta da Reggio Calabria e in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea. Al termine del concerto di Adriano Pappalardo, previsto per chiudere i festeggiamenti, il pubblico si era spostato verso la spiaggia per assistere allo spettacolo pirotecnico. Il giovane, per ammirare i fuochi d'artificio, si sarebbe seduto sulla banchina e non si sarebbe accorto dell'arrivo del treno. Arrivati subito i soccorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presente anche il personale di Polizia Ferroviaria di La Mezzia Terme, che procede per gli accertamenti. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per diverse ore ed è ripresa lentamente intorno alle 4.30 dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria.